Consiglio Comunale, in cui è mancato il numero legale, riconvocato, voi come opposizione avete detto subito una conferenza stampa, avete richiesto le dimissioni del Sindaco? Sì, perché oggi si è palesato l'atto di sfiducia della maggioranza consigliare rispetto al Brucchi Terra, questa giunta fallimentare, perché nel momento in cui la maggioranza consigliare non discute, non si presenta per discutere documenti importanti come una variazione di bilancio di 2 milioni di euro e il DUP, l'atto di programmazione su cui si regge la fiducia tra il Consiglio e la Giunta, è chiaro che è un atto di sfiducia di tutti gli effetti e il Sindaco non può che prenderne atto, non può che prenderne atto e dimettersi subito, perché è chiaro che è una sfiducia politica e non dettata da ritardi o non ritardi. C'è una crisi politica ormai permanente da un anno e mezzo, una crisi politica che si sta riversando sulla città. Oggi dobbiamo discutere di questioni di bilancio. Ci troviamo in una situazione in cui il Comune ha un'anticipazione di cassa dei 18 milioni di euro. È un dato drammatico, il Comune è sull'orlo del Baratro in una situazione di predissesto di fatto e questa maggioranza continua a giochicchiare tra numero legale, assenze strategiche, guerre fra fazioni e un sistema di potere che è ormai fallimentare. Questo è assolutamente inaccettabile perché la città sta pagando un conto troppo alto. Rispetto a una politica di questo centrodestra che è stata fallimentare. È chiaro che oggi non era una situazione politicamente neutra, sia perché si discuteva del bilancio, ma perché questo consiglio avveniva il giorno successivo alle dimissioni traumatiche dell'assessore Chiarini. Dimissioni dell'assessore Chiarini che sono il fallimento del sindaco Brucchi, perché l'assessore esterno nominato dal sindaco Brucchi e del Brucchi Ter. Assessore Chiarini che ha consegnato nella sua lettera di dimissioni delle cose gravissime, cioè ha descritto questa maggioranza come una guerra fra fazioni e come un sistema di potere. È chiaro che chiunque continui a votare a favore di questa giunta, di questa maggioranza politica, si assume la responsabilità per tenere in vita un sistema di potere, una guerra fra fazioni che stanno pagando i cittadini terramani e sarà complice di questo disastro.